Un protocollo d'intesa per consolidare la presenza in Toscana della VAMAS SPA, storica azienda attiva nel settore delle calzature, partita come impresa artigianale e diventata con 100 dipendenti un punto di riferimento nella produzione di suole per grandi marchi. La firma tra la Regione Toscana e l'azienda è stata apposta nella sede dell'azienda San Miniato. Tra i punti forti dell'intesa, che dura tre anni e rafforza la collaborazione della VAMAS con la Regione Toscana, ci sono ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, formazione del personale, nuovi metodi produttivi, nuovi insediamenti produttivi e la localizzazione in Toscana di possibili partner anche con l'utilizzo dei servizi regionali di assistenza e facilitazione di invest in Toscani. Il protocollo firmato nell'azienda arriva dopo l'accordo di filiera, siglato lo scorso maggio con 20 piccole e medie imprese di cui VAMAS è capofila con l'obiettivo di valorizzare l'intero comprensorio di San Miniato e Santa Croce sull'Arno, aumentando la capacità produttiva delle imprese.